Allora amici, siamo in diretta, eccoci qua, stasera puntata veramente specialissima, insieme al collega e amico Ruben De Luca, credo in Italia il più esperto, il più importante esperto di serial killer che insomma abbiamo a disposizione, lui ha fatto una ricerca straordinaria che peraltro vi segnalo perché stasera chiaramente cominciamo un viaggio insieme a lui, che sarà un viaggio, ci auguriamo il più lungo possibile, e stasera lo cominciamo con due serial killer molto particolari perché fanno parte di un'epoca remota, ma come vedremo in realtà molto più moderni di quanto effettivamente gli anni in cui si collocano le loro azioni criminali potrebbero far ipotizzare. Tutto questo e molto altro lo trovate naturalmente nel nostro testo di riferimento di queste puntate che dedicheremo al mondo dei serial killer, che è appunto serial killer da Jack lo squartatore e mostri di Rostov e di Bolinio, la lunga linea di sangue che attraversa l'Europa. Io ho curato la prefazione naturalmente. L'autore è Ruben De Luca per Newton Compton, quindi amici so che siete appassionatissimi, infatti siete già numerosissimi adesso all'istante. Questo sicuramente è un libro che per chi è appassionato di criminologia, in particolare di criminologia regata ai serial killer, è imperdibile, quindi mi raccomando anche per seguirci con maggiore attenzione e farci magari delle domande ancora più precise, vi suggerisco di acquistarlo perché dedicheremo tantissime puntate a questo aspetto, sarà diciamo una sorta di format nel format e quindi insomma vi suggerisco vivamente di procurarvi al più presto una copia in modo tale che potrete anche insomma dialogare con noi in maniera ancora più diciamo significativa e ancora più stringente. Intanto buonasera a tutti, mi fa enormemente piacere trovarvi qui. Abbiamo un po' riconosciuto il nostro format, vi presento appunto il collega e amico psicologo e criminologo Ruben De Luca. Buonasera a tutti. Stasera sarà un po' la nostra guida, il nostro Virgilio nel mondo dei serial killer, ecco facciamo questo accostamento insomma. Stasera abbiamo deciso di cominciare proprio, l'abbiamo presa diciamo larga come si dice in gergo perché cominciamo da due casi straordinari, magari qualcuno di voi li conosce poco, non li conosce affatto, mi riferisco a Vincenzo Verzeni, meglio noto come o lo strangolatore di donne o il vampiro della Bergamasca e la serial killer credo se non vado errata più italiana, più famosa nel mondo insieme al mosto di Firenze credo, ossia la saponificardice di Correggio, Leonardo Cianciulli. Quindi stasera ragazzi puntata veramente straordinaria. Comincerei con Verzeni se non altro per una questione di ordine cronologico dei fatti. Allora, Vincenzo Verzeni è possiamo dire un po' il pioniere dei serial killer, è il primo serial killer dell'Italia Unita fondamentalmente ed è vent'anni prima rispetto al ben più noto Jack lo squartatore, ma non è che abbia gran che da invidiare a Jack lo squartatore. Cosa ne pensi di questo parallelismo? È un po' azzardato o effettivamente Verzeni potremmo considerarlo un po' il nostro Jack? No, è assolutamente corretto il parallelismo Roberta e anche se non è stato proprio il primo assassino seriale moderno italiano perché abbiamo dei casi Callisto Grandi, Antonio Boggia, degli altri casi, però è sicuramente quello più europeo tra virgolette proprio perché rispetto per esempio a serial killer moderni Verzeni come dicevi tu è paragonabile a Jack lo squartatore perché effettuava mutilazioni e perversioni sessuali sui cadaveri. Anche se da un punto di vista numerico in realtà se noi seguissimo la definizione originale dell'FBI non sarebbe un serial killer. Partiamo da qua Ruben che è importante. Allora che cosa deve fare un soggetto? Quante persone deve uccidere perché tecnicamente possa essere considerato un serial killer? Perché c'è una definizione specifica sul punto. Sì, allora tecnicamente la definizione più recente che risale al 2005 e che è il frutto di un simposio internazionale tenutosi negli Stati Uniti dove si sono riuniti 135 esperti di 10 paesi ha abbassato la soglia da 3 a 2 vittime. Per cui la definizione più moderna di serial killer è assolutamente il buon Verzeni. Assolutamente sì e anche Luigi Chiatti che sicuramente tratteremo in puntate successive perché parliamo di un assassino che ha ucciso due vittime. Chiaramente poi lì ci sono delle sfumature nelle definizioni perché per esempio la mia definizione è quella anche di Stefan Arbort, esperto tedesco di serial killer, consideriamo anche i tentati omicidi perché poi in realtà uccidere un altro essere umano sembra facile ma non è così. Sì esistono dei casi in cui le vittime sono sopravvissute miracolosamente ma anche Verzeni è uno di questi casi. Lui infatti è stato condannato per due omicidi e sei aggressioni. E una delle aggressioni che è stata effettuata proprio contro la cugina è praticamente si racconta che lui ha stretto il collo della vittima per tre minuti buoni e normalmente tre minuti di strangolamento possono anche essere sufficienti per commettere un omicidio. In omicidiario c'era tutto, quantomeno nelle intenzioni di Verzeni c'era quello di ucciderla, non certo quello semplicemente di farle del male. Ma per questo ti dico che anche se lui non avesse ucciso, cioè se due vittime non fossero morte ma faccio l'esempio ne fosse morta una sola, in realtà lui era un serial killer a tutti gli effetti perché per ben sei volte ha tentato di uccidere. Poi per i motivi che vedremo adesso diciamo non ha compiuto gli omicidi. La definizione moderna di serial killer non considera il movente per cui in realtà definisce serial killer tutti i soggetti che uccidono due o più vittime in maniera illegale. Questa dicitura in maniera illegale serve per distinguere i soldati che uccidono nell'ambito di un conflitto e quindi non vengono considerati serial killer oppure i poliziotti tutori delle forze dell'ordine che uccidono in uno scontro a fuoco con dei malviventi. Ma diciamo che dal punto di vista numerico no, due vittime ma Verzeni rientrerebbe perfettamente nella vecchia definizione anche dell'FBI, quella degli anni Ottanta, che considerava serial killer per movente sessuale perché Verzeni aveva un fortissimo movente sessuale. Diciamo che nella criminologia dei serial killer è chiaro che un po' un posto d'onore ce l'hanno quelli che sono mossi da un movente di natura sessuale perché un po' si muove proprio anche il profiling più moderno, le tecniche investigative più moderne legate a questa particolare categoria di predatori, un po' il maggior spunto la tratto proprio da soggetti che hanno agito sulla scorta comunque di pulsioni sessuali deviate, cosiddette parafili o disturbi parafilici. E stasera è un modo di approfondire questo tema ma lo faremo anche su tanti altri casi perché purtroppo poi la dimensione sessuale è fortemente caratterizzante l'operato di questo tipo di soggetti insomma. Per questo sono particolarmente famosi per esempio il caso di Verzeni ha attirato l'attenzione del famoso psichiatra tedesco Richard von Kraft Ebbing autore di uno dei testi fondamentali del 1800 psicopatia sexualis, uno dei primi testi appunto sulle patologie sessuali e l'interesse di Cesare Lombroso che effettuò proprio la perizia di Vincenzo Verzeni. Se noi li consideriamo numericamente sia Verzeni che la Cianciulli sono molto meno diciamo pericolosi tra virgolette di un donato bilancia con 17 vittime perché Verzeni ne ha uccisi due e la Cianciulli ne ha uccisi tre. Però diciamo sono due casi che hanno attirato l'attenzione morbosa del pubblico Vincenzo Verzeni non è diventato famoso a livello internazionale come la Cianciulli perché la stampa non c'era la diffusione della stampa. Infatti guarda ora cosa ti faccio vedere? Un'immagine proprio di un sito americano che mostra la Cianciulli come serial killer, The Soapmaker, la saponificatrice e ho trovato tantissimo materiale in lingua inglese che riguarda. Ma infatti tu dicevi... C'è sorpreso effettivamente è famosissima a livello internazionale come figura di donna serial killer. Ma infatti come avevamo detto in un'altra occasione io poi ho avuto modo per scrivere questo libro sui serial killer in Europa di contattare molti esperti europei e come dicevi tu prima tutti conoscono dell'Italia, Mostro di Firenze e Leonardo Cianciulli rispetto magari ad altri casi che hanno fatto più vittime proprio per la morbosità particolare del caso insomma e quindi proprio della sfera. Allora visto che i nostri amici insomma sono impazienti di iniziare questo viaggio abbiamo chiarito un po' i confini anche della definizione di serial killer più moderna che ricomprende ampiamente Verzeni insomma che ricomprende ampiamente gli atti. Nella precedente diciamo definizione in realtà sarebbero rimasti fuori da questa categoria cioè quella dei serial killer perché si presupponeva che il soggetto dovesse aver ucciso tre o più vittime quindi in realtà ripeto è stato un cambio anche abbastanza importante dal punto di vista delle classificazioni in ambito. criminologico questo che vi stiamo rappresentando indubbiamente Verzeni è un po' anche se ripeto non è il primo serial killer diciamo che ha agito su territorio italiano sicuramente però è uno di quelli che maggiormente ha colpito la fantasia insomma dell'opinione pubblica e insomma ha continuato a riverberare nel corso dei tanti anni trascorsi dalla morte di questa persona perché perché ha commesso delitti veramente cruenti e le aggressioni erano veramente cruenti ed erano tutte connotate dal punto di vista sessuale. Allora chi è Vincenzo Verzeni e che tipo di vita ha avuto perché vedremo che anche questo è un aspetto che anche con la Cianciuli ritorna molto c'è un'infanzia profondamente segnata dai maltrattamenti, dalle problematiche, in quel caso anche dalla povertà, da malattie di natura fisica, dalla denutrizione. Insomma diciamo che il biglietto da vista di Verzeni per entrare nella diciamo nella nella come dire nell'Olimpo dei serial killer italiani è sicuramente un'infanzia tragica. Ma diciamo che la storia di Vincenzo Verzeni è ambientata a Bottanugo in provincia di Pavia quindi siamo nel nord Italia l'ambiente è un ambiente rurale quindi ambiente di contadini. Vincenzo Verzeni è figlio di contadini e diciamo ha un'istruzione non chiaramente di alto livello perché la sua diciamo il destino della sua vita era legato appunto al mondo contadino. I genitori sono contadini, i genitori sono contadini, l'educazione di Vincenzo Verzeni è un'educazione rigida di famiglia contadina con il valore della terra, anche una religiosità molto stretta per cui diciamo il sesso viene vissuto con collegato, strettamente collegato al peccato. E Verzeni era un soggetto con scarse capacità relazionali linguistiche, infatti approcciava le ragazze in maniera diciamo abbastanza impacciata, anche se nel paese non era conosciuto come un soggetto aggressivo, era un ragazzone alto ben piantato, però diciamo che non incuteva timore. Lui però fin da dopo la pubertà, perché fino alla pubertà è rimasto è stato un bambino normale, assolutamente tranquillo, poi ha iniziato all'improvviso e le cause sono, essendo un caso storico del 1800 è difficile capire bene le cause perché le informazioni quando affrontiamo casi così datati Purtroppo bisogna sempre stare attenti alla realtà e alla mitologia, ma quello che si sa è che ben presto appunto Vincenzo Verzeni iniziò a provare delle pulsioni sessuali abnormi e a collegare il piacere sessuale all'aggressività. Per cui lui iniziò ad aggredire ragazze e il fatto se morissero meno era legato alla velocità di raggiungere l'orgasmo, il piacere sessuale. Per cui le sventurate, le poverine che si sono salvate fortunatamente, le sei ragazze che ha aggredito e che non ha ucciso, considerate che le aggressioni e gli omicidi sono avvenuti tra il 1869 e il 1871 E praticamente lui stringeva al collo, aggrediva, aveva un modus operandi molto riconoscibile. Ecco perché possiamo parlare di un serial killer moderno, perché anche se non c'era chiaramente la definizione modus operandi, lui agiva con un modus operandi molto riconoscibile. Le avvicinava queste ragazze, tentava un approccio verbale abbastanza impacciato, le portava in luoghi isolati e loro lo seguivano proprio perché nel paese era conosciuto come un ragazzo di indole buona e poi le aggrediva repentinamente stringendo le mani al collo e se provava piacere sessuale prima del decesso della vittima lasciava la presa e se ne andava. Nei due casi invece in cui è arrivato all'omicidio, proprio perché il piacere sessuale è sopraggiunto in ritardo, poi si è accanito sui cadaveri per cui anche con un falcetto che si portava presso un attrezzo da contadino, quindi assolutamente lecito il suo possesso, ha estratto le viscere dalla pancia delle due ragazze e quindi ecco perché lo possiamo anche accostare a Jack lo squartatore. Poi mangiava, ha tagliato i polpacci delle vittime, si dice che mangiasse alcune cose. Secondo Lombroso che lo esaminò all'epoca, quindi Cesare Lombroso, lui era affetto da sadismo sessuale e da picherismo, quindi questo piacere nel infierire sul corpo con una lama e quindi produrre comunque una lesione, far fuori uscire sangue e secondo lui c'era questo aspetto anche cannibalico, cioè che effettivamente di alcune vittime ha consumato proprio le carni. Anche se secondo Lombroso, nonostante questo quadro gravissimo dal punto di vista parafilico, era un soggetto pienamente capace di intendere e volere, cioè pienamente imputabile, chiaramente per la valutazione che fu dell'epoca, non considerò Lombroso neppure la problematica legata alla malattia della pellagra né alla condizione di cosiddetto cretinismo, che all'epoca insomma veniva diagnosticato e che aveva quotienti intellettivi molto molto bassi, come nel caso di Verzeneson. Però secondo Lombroso, al netto di tutte queste condizioni, era un soggetto pienamente imputabile, tant'è che effettivamente poi venne condannato come pienamente imputabile, anche se poi nel corso del tempo la pena venne ridotta sensibilmente, si passò fuori alla pena finale di vent'anni. Ma in effetti lui sicuramente era capace di intendere e di volere, tant'è vero che poi quando venne arrestato confessò i delitti e raccontò anche con dovizia di particolari proprio la sua procedura. Vi leggo un breve strato della sua confessione. Io ho veramente ucciso quelle donne e tentato di strangolare quelle altre, perché provavo in quell'atto un immenso piacere, in quanto che appena mettevo loro le mani addosso sul collo ne sentivo un gran gusto. La prima non la strozzai del tutto perché il piacere lo gustai subito, appena toccatole il collo. Per la stessa ragione restarono salve le altre cinque assalite. Invece le due restarono soffocate perché il piacere, tardando a manifestarsi, mi costringeva a stringerle sempre di più ed esse morivano. Le graffiature che si trovano sulle cosce non sono state prodotte dalle unghie, ma con i denti, perché io dopo strozzata la morsi e ne succhiai il sangue che era colato e ne godei moltissimo. Io non ho mai pensato a toccare o indagare le parti sessuali o analoghe, ma solo mi limitavo a stringerle il collo e a succhiarne il sangue. Ecco, qui abbiamo proprio una descrizione lucida di tutto il processo e di questo connubio molto stretto tra violenza, sangue e piacere sessuale. Ma infatti non si attraccia, i periti non riuscirono ad accertare se ci fosse stata violenza sessuale. Verzeni lo negò con forza, proprio perché c'era anche l'escissione dell'organo genitale. Esatto. Ci chiedono, ma come nascono queste perversioni? Allora, parlando di perversioni, il concetto più moderno è quello di parafilia, quindi di un interesse sessuale che è esulato a quello considerato normale, ossia quello che riguarda l'interesse sessuale normale, quello che riguarda la genitalità, quindi l'utilizzo chiaramente degli organi sessuali completi, e che riguarda soggetti fenotipicamente normali, quindi soggetti chiaramente che hanno tutte le parti al loro posto fondamentalmente, e naturalmente umani, perché tutto quello che esula dal contesto dell'umano non può essere considerato sessualmente normale, che chiaramente riguarda soggetti in grado di prestare consenso e fisicamente, chiaramente, e psicologicamente maturi. Quindi il concetto di sessualità normale è un concetto ampio, ma deve rimanere all'interno di questi parametri. La parafilia è ancor più il disturbo palafilico, che è, diciamo, la forma più grave in cui può manifestarsi una parafilia con un interesse diverso da quello che ci siamo, o che riguarda attività che sostituiscono completamente l'atto sessuale che coinvolge la genitalità, come nel caso di Verzeni. Verzeni, lo dice, non si univa carnalmente con le... cioè non c'era una penetrazione, non c'era un rapporto sessuale, perché l'attività di strangolare queste donne, di mutilarle, comunque di far loro del male, sentire in qualche modo la loro vita scivolare via, sostituiva completamente il rapporto sessuale. Quindi è una forma di disturbo palafilico gravissimo perché la messa in atto comporta chiaramente danneggiare qualcun altro, danneggiarlo nella maniera più estrema, addirittura con la morte. Quindi è chiaro che questo tipo di parafilia, però così grave, si sviluppa in soggetti che naturalmente hanno una personalità profondamente disturbata. Cioè perché un soggetto riesca ad arrivare a manifestare una parafilia di questa portata, di un disturbo palafilico di questa gravità, significa che la sua personalità è già fortemente disfunzionale e di solito è già fortemente disfunzionale a partire da un'epoca molto precoce del suo sviluppo. Quindi già dall'infanzia cominciano a evidenziarsi delle problematiche e in particolare una miscela molto inquietante tra eccitazione e violenza. E nella storia di tutti questi soggetti questi parametri ci sono. Poi questo può avvenire o perché il soggetto è esposto a eventi traumatici e quindi in qualche modo elabora in maniera malevola i traumi subiti trasformandosi in qualche modo in colui che li governa, quindi nel futuro aggressore. Oppure ha avuto contatti con degli adulti o ha visto cose che gli hanno prodotto una risposta eccitatoria associata però a fare del male a qualcuno o magari a un piccolo animale. Per esempio il BTK Rader racconta che lui aveva iniziato ad eccitarsi con tutta una serie di fantasie che purtroppo portavano a fare del male agli altri perché vedeva la nonna che uccideva le galline e lui anziché essere inorridito da quello che osservava in realtà lo eccitava a vedere questa scena. Quindi questo esercizio di potere e di violenza associato ad eccitazione. Quindi possono essere davvero tanti gli ingredienti e in questo lungo viaggio che faremo ne vedremo tante di possibilità. Però di solito è qualcosa che avviene, questo mix tra violenza e eccitazione associato a temi specifici che sostituiscono l'atto sessuale normale di solito avviene in un'epoca molto precoce dello sviluppo di una personalità. Restivo già a sei anni, Danilo Restivo, l'assassino di Elisa Claps e di Heather Barnett è un soggetto che già a sei anni aveva manifestato ampiamente delle problematiche che era gravemente feticista, tagliava i capelli delle bambine che conosceva e se li portava via, aveva manifestato una grossa esigenza di dominare gli altri e questo tipo di condotte era un'associata ad eccitazione. Quindi per rispondere all'amica che chiede ma come nascono queste perversioni è che nascono da una serie di ingredienti nella vita di una persona in un'epoca molto precoce, tanto più è grave la parafilia tanto più è precoce il suo esordio fondamentalmente e nascono in personalità gravemente deficitarie che non hanno empatia, che non sanno relazionarsi con gli altri e che purtroppo trovano molto eccitante dominare gli altri. Sì perché poi va fatta una considerazione il sesso è uno dei bisogni primari dell'essere umano come da classificazione del famoso psicologo Abraham Maslow che negli anni 60 ha classificato i bisogni umani e i bisogni primari, cioè quelli fondamentali sono il bisogno di un tetto, il bisogno di sostentamento il bisogno di accurimento e tra i bisogni primari c'è anche il bisogno sessuale e alla base di tutte queste parafilie c'è un motore, un denominatore comune che è la fantasia la fantasia in sé per sé non è negativa la fantasia è qualcosa che abbiamo tutti gli esseri umani il problema di questi soggetti è che appunto come diceva Roberta nella loro mente precocemente la fantasia intanto diventa predominante e va a sostituire la realtà e poi si lega il sesso al bisogno di violenza per cui c'è il connubio tra violenza e sesso tant'è vero che se uno analizza la pornografia non tutta la pornografia è criminogenetica ed è deleteria da questo punto di vista quella più pericolosa come diceva anche Ted Bundy famoso serial killer americano che usava moltissima pornografia la pornografia più pericolosa è quella appunto dove si vede è raffigurata la donna che gode nella violenza e nelle torture per cui ecco alla base di tutte le parafilie c'è la fantasia senza fantasia non ci sarebbe il resto la fantasia è l'inizio del ciclo sessuale cioè quella che poi orienta il desiderio cioè la fantasia è in qualche modo il copione attraverso cui la nostra energia sessuale si veicola verso un target specifico o verso una tipologia di attività specifica e lì può succedere di tutto perché l'organo sessuale pericolosa ce l'abbiamo tra le orecchie non tra le cosce quindi qua dentro può accadere di tutto e purtroppo nei parafilici e soprattutto nei parafilici gravi perché non tutte le parafilie necessariamente poi valicano il confine diciamo del crimine ci mancherebbe altro ci sono parafilie che possono essere gestite in maniera assolutamente tranquilla un feticista per esempio della lingerie femminile può essere una persona che magari alla fidanzata alla compagna alla moglie compra una serie di oggetti di indumenti intimi particolari l'altra la partner non ha nessun problema a indossarli i due vivono tranquillamente questa sessualità anche se c'è una componente parafilica oppure un questo tipo di feticista può diventare che ne so un rappresentante di lingerie e cosa che soddisfa sia la parte funzionale quindi lavorativa e che quella parafilica senza creare danno a nessuno quindi non è detto che ci siano alcune parafilie invece hanno in sé il germe del crimine la pedofilia è chiaro che se io se tu c'è un pedofilo che dà seguito alle sue fantasie non si limita a viverle in maniera intrapsichica ma le mette fuori quindi le agisce è evidente che lì immediatamente varca il confine con l'aspetto criminale però non tutte sono così il disturbo parafilico di solito è una parafilia talmente intensa talmente sobrerchiante talmente invasiva nella vita della persona che può portare dei danni anche alla persona stessa ci sono dei casi ad esempio di soggetti che sono affetti ad esempio da masochismo con cosiddetta auto-asfissiofilia cioè soggetti che fanno i giochi con la dimensione asfittica auto-erotica che in alcuni casi muoiono oppure vanno incontro a danni cerebrali perché il continuo giocare nella parte tra la prima e la seconda fase della diciamo della dell'apnea quindi prima di arrivare alla sfissia vera e propria tante volte non si fermano tra la prima e la seconda arrivano alla terza e dalla terza alla quarta cioè quella mortale il passo è molto breve qualcuno ogni tanto muore quindi non è necessario che sia qualcosa che accade e fa male a qualcun altro alcuni parafilici gravi rischiano anche di fare male a se stessi altri parafilici gravi come in questo caso chiaramente la soddisfazione della loro parafilia porta inevitabilmente al fatto che qualcun altro si faccia male o addirittura muoia quindi l'altra domanda era si possono curare le parafilie così gravi no perfetto questa domanda è proprio un assist perfetto anche per l'altro diciamo elemento che vi volevo dare su Vincenzo Verzeni proprio la sua modernità perché proprio come altri serial killer più moderni che hanno mandato il messaggio per esempio alla polizia fermatemi perché io non sono in grado di fermarmi da solo ricordiamo Luigi Chiatti che lasciò un bigliettino dopo il secondo omicidio nella cabina telefonica di Foligno e proprio scrivendo che lui non era in grado di fermarsi Vincenzo Verzeni quando venne arrestato lui proprio disse disse ai poliziotti vi prego non 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 mettetemi in libertà perché lui disse proprio testuali parole era tanto quel piacere che io non potrei fare a meno di procurarmene e uccidere altre donne per cui ecco nei casi più gravi la parafilia sessuale o la perversione sessuale se vogliamo usare un termine diciamo più più comune è in questi casi non è curabile per cui l'unico l'unico modo è contenere la persona ma non è curabile proprio per il discorso che facevo prima che il sesso è uno dei bisogni fondamentali per cui se nella psiche se nel cervello di un soggetto si instaura questo circolo vizioso per cui sesso uguale violenza uguale morte uguale sopraffazione tu gli puoi fare tutti i trattamenti che vuoi in carcere ma il soggetto sa che magari per uscire se è abbastanza intelligente sa che deve manipolare gli esperti in carcere sa che deve dire determinate cose ma a livello cognitivo non c'è nessuna ristrutturazione per cui quel bisogno rimane assolutamente inscalfibile no ma infatti quello è anche perché poi si creano dei circuiti neurofisiologici legati al sistema dopaminergico in questi soggetti che sono impossibili da spegnere per cui quando si tratta di parafilie così gravi e così invadenti nella qualità della vita del soggetto perché Verzeni passava come tutti i parafilici come lui gravi passava le giornate a immaginarsi la prossima aggressione a cercare di capire quale fosse l'occasione giusta per metterla in atto cioè tutta la sua vita ruotava intorno alla sua attività criminale perché quel tipo di soddisfazione non era possibile ottenerla diversamente ok lo diceva anche Terpandi ricorderai sicuramente sì io lui poteva fare sesso normalmente con le donne lo faceva era stato fidanzato a lungo durante la fase della sua attività criminale con una donna che non ha ucciso ok ma non è paragonabile a quello che succedeva con le vittime ma infatti anche Vincenzo Verzeni aveva delle ragazze con cui usciva cioè una delle sue fidanzate tra virgolette cioè una ragazza che lui frequentava tale Carolina Marchisio che interrogata da la polizia quando Verzeni venne arrestato disse che lui era un ragazzo gentilissimo che non aveva mai usato violenza con lei non aveva mai cercato di forzarla proprio perché questi soggetti poi ecco perché sono molto difficili in certi casi da da catturare e chi ci vive intorno spesso non si accorge della vera natura perché io dico sempre il serial killer non è serial killer H24 a parte alcuni casi proprio eclatanti è vero che Verzeni era ossessionato dal sesso e ci pensava in continuazione però in alcuni momenti riusciva anche a avere la facciata di normalità cosiddetta per cui pensate un paesino come Bottanuco piccolo in provincia di Pavia quindi non parliamo di una grande città dove è facile nascondersi camuffarsi nessuno dei suoi compaesani sospettava che lui fosse il criminale probabilmente avrebbe continuato a uccidere se il giorno prima appunto del secondo omicidio non avesse aggredito la cuginetta e mentre la stava strangolando lei ha perso i sensi lui ha mollato la presa si è allontanato un attimo per controllare che non venisse nessuno poi quando è tornato la ragazza aveva ripreso i sensi e si era alzata lui l'ha afferrata per le mani lei ha iniziato a implorarlo ti prego non mi uccidere ti prego non mi uccidere e lui abbastanza inspiegabilmente l'ha lasciata andare perché poi nelle vicende di serial killer si notano anche queste incongruenze a volte per cui lasciano andare delle vittime senza ucciderle e poi porterà alla sua cattura proprio la testimonianza i nostri amici sono molto interessati però da un paio di aspetti uno se possono guarire vi abbiamo detto che puoi metterci in mezzo tutta la psicoterapia tutti i psicofarmaci che ti pare ma è qualcosa che caratterizza il funzionamento della loro mente in una particolare specifica attività cioè quella della gratificazione quel tipo di circuiti una volta che si formano non si spengono puoi far tutto quello che ti pare si può insegnare nei casi in cui non è così intenso il desiderio così parafilico così deviato sicuramente qualche margine c'è parliamo però dei casi peggiori cioè tu immaginati parafilia distrullo parafilico una specie di continuum per gravità dopo il distrullo parafilico abbiamo i sex offender quindi immaginati quanto sia impermeabile un soggetto del genere a qualunque tentativo di psicoterapia uno due di solito sono soggetti privi di empatia perché la sofferenza degli altri li nutre li soddisfa li gratifica quindi già questo per costruire un'alleanza terapeutica è un passaggio praticamente che la rende impossibile già di per sé mettici anche che ti chiede ma si pentono? no davvero cioè possono dirti di essere pentiti perché gli serve perché magari avere qualche beneficio qualche vantaggio ma dentro di sé il pentimento è qualcosa che presuppone che tu l'altro lo leggi come lo consideri un altro essere umano e loro sono proprio in grado di farlo queste domande capitano infrequente perché si commette ma è chiaro mi rendo conto che è un è un errore metodologico della persona cosiddetta normale è chiaro che noi che facciamo questo lavoro qualcuno possa fare una roba del genere trovarla gratificante senza pentirsi mai no è quello che volevo dire cioè bisogna entrare nell'ottica di questi soggetti cioè per un soggetto del genere non sta facendo niente di male perché sta soddisfacendo appunto il suo bisogno primario come dicevamo e quindi il piacere come nel caso appunto di Verzeni che il suo obiettivo era utilizzare la nostra amica Domenica Meglio che scrive ma questo si richiede ancora in carcere è morto diciamo che nel è morto nel 1870 lui era stato condannato ai lavori forzati in realtà si era salvato dalla pena di morte per un voto di un giurato esatto e quindi no dicevo praticamente questi impulsi ecco nel caso di Verzeni lui se raggiungeva il piacere prima lasciava andare la vittima perché il suo focus era il suo piacere la sua gratificazione che poi quello il principio che abbiamo ognuno di noi solo che qual è il problema che per fortuna la stragrande maggioranza delle persone possiede dei modi strutturati in maniera lecita per raggiungere le gratificazioni in un soggetto del genere dove con tutto quello che ha detto Roberta prima si creano questi cortocircuiti l'unico modo per raggiungere il piacere è appunto la soppressione dell'altro fregandosene dei bisogni oggettivi quindi la mancanza totale di empatia questo è quindi ragazzi alla domanda si pentono o possono guarire la risposta è no e no nel senso che non c'è spazio ma non non è neanche qualcosa che che interessa loro cioè il concetto del pentimento non gli appartiene se raccontano qualcosa spesso lo fanno perché l'idea di raccontare è rivivere questo tipo di eventi e già questo li gratifica enormemente vedete ve lo mostreremo quando parliamo di Chiatti dei passaggi del processo in cui Luigi Chiatti rende esame e racconta i passaggi clou dell'omicidio di Simone Allegretti e di Lorenzo Paolucci voi vedete l'espressione del volto di quell'uomo mentre racconta delle cose agghiaccianti è ancora in quel momento gratificato ma profondamente gratificato e si vede proprio dall'espressione del volto dal terrore che gli altri e l'angoscia che suscita in tutti quelli che lo ascoltano in una corte d'assise gremita di persone tra cui i familiari delle vittime lui si proprio si sofferma nei dettagli più macabri più inquietanti con un ghigno di soddisfazione che è spaventoso spaventoso eppure sta rischiando l'ergastolo neanche questo lo trattiene dal manifestare la sua gratificazione beffarda nel raccontare con dovizia di dettagli i passaggi più terribili di questi due omicidi capite questa roba non si spegne ragazzi e il buon chiatti anche se dice di essere pentito considerate che lui ha finito di scontare perché è stato poi alla fine ritenuto semi-infermo di mente quindi condannato a 30 anni più misura di sicurezza per fortuna per fortuna perché è già due volte che va sotto commissione lui è andato in rems che ha finito di scontare la pena detentiva quindi è stata adesso sotto misura di sicurezza quindi è stato inserito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che sarebbe praticamente l'evoluzione dei manicomi giudiziari degli OPG ebbene è già due volte che va sotto commissione e la commissione lo ritiene ancora socialmente pericoloso perché quelle fantasie quella dimensione gravemente parafilica non è minimamente venuta meno è come se il tempo non fosse mai trascorso nella sua mente sotto profilo di quel nucleo di desiderio che lui è in grado di sviluppare e come lui tanti altri lo Stefanin è stato intervistato recentemente non vede l'ora di uscire è pentito ha capito ha sbagliato bla 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 ma se voi lo vedete mentre parla degli omicidi commessi che peraltro lui ancora continua a dire che non si ricorda il volto tradisce ancora adesso una piena gratificazione al ricordo di quello che riusciva a fare anche lì parliamo di un soggetto gravemente disturbato dal punto di vista sessuale e non solo con un disturbo diciamo di sadismo gravissimo in una personalità fortemente narcisistica non si spegne sta roba ragazzi quando si arriva a quei livelli non è possibile intervenire non c'è terapeuta che tenga non c'è psichiatra che tenga non c'è psicologo che tenga non c'è terapeuta gli esempi gli esempi sono innumerevoli e mi viene in mente anche se non è tecnicamente un serial killer ma se lo rimetteranno in libertà a tutti gli elementi per diventarlo Marco Mariolini il cacciatore di anoressiche lui ha detto a più riprese che comunque questa sua ossessione per le ragazze anoressiche non non è che il carcere gliel'abbia tolta lui ha proprio detto che proprio questa sua lui è il primo e unico anoressofilo del mondo cioè questo aspetto addirittura lui l'ha introdotto nella sua personalità narcisistica come elemento di grandiosità sono unico e speciale perché ho una patologia che ho solo io immaginatevi se questo torna fuori che tipo di situazione andrà a ricreare secondo voi ci sono schemi comportamentali ragazzi che non sono non sono superabili a questo proposito vi consiglio mi piace sempre dare riferimenti cinematografici se siete interessati al caso di Marco Mariolini vi consiglio Primo Amore film del 2004 di Matteo Garrone che ripercorre proprio le la le gesta di Mariolini faremo una puntata su Mariolini come si rialchiera tipico mettiamola così insomma Mariolini è molto interessante come soggetto da tantissimi punti di vista perché la storia insomma che porta l'omicidio di Monica Calò è una storia che merita un approfondimento anche sotto profilo delle dinamiche legate alla manipolazione affettiva e della dipendenza affettiva quindi è una storia che magari non è focalizzata sull'aspetto del seriale perché ovviamente non è in sé per sé ok anche se in realtà lui cercava non tante solo anoressiche ma una donna disposta a dimagrire per lui anzi le anoressiche in sé per sé non è che le schivava anche un po' perché loro rimanevano magre per sé non per soddisfare lui lui l'aspetto di ogni potenza narcisistica sadica lui voleva che invece una donna arrivasse a diventare pelle e ossa per lui perché lui la voleva così quindi un modellamento più tipico del sadismo sessuale diciamo legato proprio alla personalità narcisistica nella sua modalità più più aggressiva insomma certo tratteremo sicuramente il caso più avanti anche se ripeto non è un seriale astrattamente avrebbe potuto diventarlo questo sì diciamo è un potenziale io definisco potenziale tra l'altro vi potrò anche leggere dei brani del suo libro e lui scrisse questo libro anni prima di commettere l'omicidio e nessuno fece niente cioè nel libro proprio enunciava i suoi obiettivi e nessuno fece nulla no ma infatti venne contestata la premeditazione sull'omicidio dal calopro per via del libro certo e proprio il libro fu la prova che lui aveva promeditato anche perché anche se i nomi dei protagonisti del libro erano leggermente diversi era chiaro che lui stava parlando della sua storia era proprio la sua storia lui si è costruito proprio un testo un romanzo ma in realtà era la sua storia e il finale era quello che lui aveva già ampiamente previsto cioè se lei non tornava con lui non sarebbe tornata da nessuna parte perché lui l'avrebbe uccisa ed è quello che è esattamente accaduto quel libro lo dedicò a Monica proprio con odio e con amore la dedica recitava però anche lì la dimensione parafilica ha avuto un ruolo determinante cioè lui una volta prima c'era qualcuno che se non ricordo chi fa ma chi ha un disturbo ossessivo compulsivo può diventare un serial killer sì il problema non è cioè c'è un ampio range di possibilità anzi quelli più ossessivi quelli più precisi sono quelli anche più difficili da catturare per certi versi Radar aveva sicuramente oltre a un aspetto narcisistico anche un aspetto ossessivo diciamo che gli ossessivi compulsivi sono quelli che più facilmente possono mettere in atto dei rituali sempre uguali negli omicidi proprio perché hanno bisogno di una routine e quindi il rituale per esempio Verzeni una cosa che nessuno ha mai potuto spiegare praticamente oltre alle mutilazioni e alle scissioni appunto di pezzi del cadavere sono state ritrovate i vicino alla prima vittima dieci spilli conficcati nel terreno e vicino alla seconda vittima altri cinque spilli però non c'è stato nessun collegamento con qualcosa di esoterico di satanista è qualcosa che non è mai stato spiegato però è un rituale potremmo dire con un termine moderno una specie di firma perché un elemento che non aveva nessun nesso con la commissione dell'omicidio ma evidentemente serviva per soddisfare un rituale interno della mente di Verzeni che è rimasto una dimensione più scaramantica ricordiamoci che è un'epoca fortemente caratterizzata da tutta una serie di problematiche legate a esoterismo diciamo fai da te quindi c'era anche una forte Verzeni era una persona dal punto di vista culturale bassissima nel senso proprio persona con scarsissime capacità sotto questo aspetto quindi poteva anche essere una sorta di rituale scaramantico per scongiurare la cattura per certi versi mi stupirebbe se questa potrebbe essere la chiave di lettura quindi il buon Verzeni alla fine della favola paga per i suoi crimini paga per i suoi crimini nel senso che viene catturato viene arrestato confessa pienamente come avete visto e viene condannato prima all'ergastolo poi a 30 anni pena ridotta alla fine a 20 anni che appunto sconterà peraltro destando una enorme attenzione per l'epoca e venne esaminato niente po' di meno che all'epoca da Cesare Lombroso che scrisse anche diversi diversi resoconti proprio sulla vicenda di Verzeni che indubbiamente è un serial killer estremamente moderno insomma almeno per quanto riguarda la componente psicopatologica cioè quella legata alle parafilie veniamo alla seconda protagonista della nostra prima serata dedicata a questo viaggio nella mente dei serial killer la saponificatrice di Correggio ecco Leonardo Cianciulli che storia ha? perché anche lei c'è una storia familiare infantile veramente tragica Leonardo Cianciulli è un caso secondo me estremamente affascinante e ha destato scalpore e fama a livello internazionale proprio per delle caratteristiche particolari intanto è una donna e partiamo già da questo da questo assunto che vedremo che in Italia ci sono state pochissime donne serial killer è l'unica perché secondo te perché secondo te una grande percentuale di serial killer sono i sessi maschile e ci sono pochissime donne? beh perché la dinamica del potere del bisogno del controllo allora se parliamo delle parafilie sessuali se parliamo della sfera sessuale la motivazione è abbastanza facile perché appunto il sesso le perversioni sessuali aggressive sono tipicamente maschili anche se poi chiaramente ci sono anche le donne che agiscono parafilie però nell'uomo c'è questa importanza fondamentale e questa frustrazione è legata alla competitività e al bisogno di potere di controllo che è proprio atavica basti vedere anche poi nei femminicidi dove c'è il discorso del possesso e del controllo che quindi è un qualche cosa di parallelo la particolarità della cianciulli è che a differenza della maggior parte delle donne serial killer che hanno come metodo dellezione il veleno la cianciulli era una donna aggressiva cioè lei ha ucciso le tre vittime praticamente la prima con un colpo di martello le altre due con colpi d'ascia quindi comunque con un'aggressività fisica la storia di Leonardo cianciulli è molto particolare anche qui siamo lei nasce a Montella è di origine campana risulta che la cianciulli fosse figlia di una violenza cioè fosse stata in qualche modo generata da una violenza sessuale patita dalla madre e qui ci sono versioni per cui la madre la odiava in maniera così viscerale e le ha sempre dispensato un trattamento terribile sin da bambina allora qui anche ci sono versioni contrastanti purtroppo nel caso della cianciulli si fonde molto la realtà con la mitologia alcune fonti riportano appunto questa versione altre no e addirittura alcune fonti mettono in discussione il fatto che la madre la odia se così tanto in realtà noi sappiamo la maggior parte delle informazioni di cui siamo a conoscenza da cianciulli proprio dal suo memoriale quello che scrisse in manicomio di 7-800 pagine in cui racconta appunto tutto quanto quello che sappiamo di certo è che la colpì profondamente la morte del padre quando lei aveva solo 13 anni e questo lutto del padre appunto la segnò profondamente e da come racconta lei il rapporto con la madre era pessimo tant'è vero che poi anche quando lei si innamorò e si videnzò con Raffaele Pansardi che poi diventò suo marito in realtà la madre la osteggiava continuamente perché aveva pianificato come si usava all'epoca un matrimonio con un cugino un matrimonio combinato per cui non voleva assolutamente la madre questa questa unione la cianciulli è interessante anche perché ha una struttura di personalità molto particolare lei ha avuto queste gravidanze che sono andate a cattivo termine a diciamo 17 gravidanze solo 4 figli 13 gravidanze che non hanno portato a termine la gestazione 4 invece che effettivamente sono state portate a termine quindi 4 figli di cui questo il primo l'amatissimo Giuseppe in maniera quasi morbosa 3 maschi e una femmina sopravvissuti nella sua mente allora la caratteristica principale di Leonardo Cianciulli che era dominata dal pensiero magico cioè che anni erano guarda se non ricordo male lei è nata nel 1893 quindi stiamo parlando 1894 gli omicidi risalgono al 1939 1940 quindi stiamo nella nell'epoca fascista comunque lei era all'inizio della seconda guerra mondiale il processo venne celebrato nel 1946 e praticamente dicevo la Cianciulli era governata da quello che in termini moderni si può chiamare pensiero magico cioè una donna molto superstiziosa che aveva scarse capacità razionali per cui ogni cosa che le succedeva la interpretava in maniera mistica la interpretava in maniera mistica e quindi queste gravidanze non portate a termine quindi tutti questi figli morti le avevano fatto credere di essere maledetta anche qui si dice maledetta diciamo questo era un po' quello che spesso torna nella storia della Cianciulli cioè che lei si fosse convinta in seguito a tutte queste gravidanze non fallite che la madre effettivamente nel suo dirle non sarai mai una madre non diventerai mai madre fosse in qualche modo una maledizione che aveva attecchito infatti lei nel suo memoriale scrisse proprio la mamma mi odiava perché non aveva desiderato la mia nascita ero una bambina infelice e desideravo morire cercai due volte di impiccarmi una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune la mamma mi fece capire che le dispiaceva di rivedermi viva ecco un altro elemento fondamentale presente in tutta la vita della Cianciulli è appunto la presenza della morte un po' con la morte dei figli e un po' con questo proprio questa atmosfera macabra che la circondava e gli omicidi nascono secondo la versione ufficiale cioè la versione appunto della stessa Cianciulli proprio per il pensiero magico per motivi scaramantici praticamente nel 1939 con lo scoppio della seconda guerra mondiale lei aveva paura che i tre figli maschi andassero al fronte per cui non voleva assolutamente voleva fare di tutto per salvaguardare la vita dei figli c'è da tenere presente che in passato aveva incontrato delle zingare delle fattucchiere delle chiromanti che praticamente le avevano predetto appunto questa maledizione che gravava sulla sua testa e che sarebbe stata difficilissima da spezzare e lei si era convinta appunto di questa cosa quando ci fu lo scoppio della seconda guerra mondiale lei iniziò a anche se era una donna di bassa istruzione anche qui siamo con un livello comunque di istruzione non certo elevata però iniziò a interessarsi alla letteratura classica la mitologia e si identificò con la dea Teti praticamente la madre anche di Achille che per salvare per salvare i figli appunto aveva compiuto dei rituali andò a vedere quello che facevano le donne troiane le donne di Sparta e si convinse che doveva compiere dei sacrifici umani per salvare praticamente i figli e prese di mira queste tre donne che erano donne peraltro con gli anni sole sole con il sogno per l'epoca direi anche abbastanza obbligatorio di farsi una famiglia perché considerate che a quell'epoca già se ti sposavi dopo i 24 anni era una tragedia fondamentalmente perché a 24 anni 25 massimo dovevi già essere madre e avere una tua collocazione all'interno del nucleo familiare cioè la moglie di qualcuno dovevi essere se no eri fuori veramente da ogni da ogni logica eri fuori da ogni possibilità qui parliamo di tre donne con un profilo personologico abbastanza vulnerabile tutte e tre desiderose nonostante l'età avanzata di coronare questo sogno d'amore che per un motivo o per l'altro non si era mai coronato e che insomma vanno in pasto a lei abbastanza velocemente abbastanza agevolmente considerate che lei quando arriva a Correggio in realtà è già una pregiudicata Ruben perché aveva già delle cose aveva era stata condannata nel 1912 nel 1917 nel 19 per truffa furto e quindi diciamo era era già una pregiudicata perché comunque lei non non accettava viveva malissimo le ristrettezze economiche loro tra l'altro lei e il marito si erano dovuti trasferire dopo un terremoto che aveva sconvolto diciamo l'Irpinia e quindi erano andati a vivere a Correggio e all'inizio l'unione col marito era perfetta perché si erano incastrate si erano incontrate due personalità assolutamente complementari perché per quanto Leonardo Cianciulli aveva la testa tra le nuvole era dominata dal pensiero magico quanto invece il marito che era un impiegato statale era razionale concreto coi piedi per terra e la teneva diciamo ancorata la realtà andando avanti in matrimonio però Leonardo Cianciulli iniziò a stancarsi anche del marito e bisticciavano frequentemente perché il marito appunto non assecondava non assecondava i suoi deliri quindi questo discorso della maledizione cioè il marito cercava di riportarla alla realtà le diceva goditi i figli e ti sono rimasti non andare a cercare sempre motivazioni mistiche eccetera per cui diciamo il rapporto col marito si sfaldò e infatti si dice anche che la Cianciulli fosse di costumi sessuali abbastanza aperti quindi avesse avuto in passato degli amanti e come dicevi tu Roberta appunto queste erano vittime vittime predestinate da un certo punto di vista perché la Cianciulli fu molto abile a sfruttare le loro vulnerabilità manipolatrice esperta cioè lei era riuscita a capire tutto non qualcuno adesso non ricordo chi scrisse il suo sadismo ma in realtà non c'è una componente sadica no cioè le morti arrivano molto rapidamente poi vi era il depezamento vi era la bollitura con la soda caustica vi erano tutta una serie di passaggi ma in realtà le vittime erano già morte quindi la componente sadica qui non c'è non è che lei torturava la vittima la depezava pezzo pezzo ancora in vita no l'omicidio veniva commesso in maniera abbastanza rapida no ma infatti per motivi economici e poi c'era tutta la parte per disfarsi del corpo che era molto elaborata ma con la vittima già deceduta che è quella poi che ha scatenato la fantasia del pubblico all'epoca ma del pubblico a livello internazionale vi faccio vedere una chicca vorrei anche vorrei anche un attimo sconfessare una leggenda metropolitana non è che faceva i saponi ragazzi non è saponificatrice perché faceva il sapone con la vittima alla violetta ok saponificatrice perché si disfava dei cadaveri attraverso la procedura di saponificazione cioè facendoli bollire facendoli bollire con la soda caustica ma non è che faceva faceva i saponi ok non è in questo senso va bene e questo vi faccio vedere una chicca è un DVD rarissimo di un film del 1977 Gran Bollito di Mauro Bolognini con la grandissima attrice Shelley Winters premio Oscar che interpreta Leonardo Ciacciulli e la particolarità di questo di questo film è che le tre vittime femminili sono interpretate da tre attori uomini uomini travestiti tra cui Ugo Tognazzi Alberto Lionello e addirittura Max von Sydow grandissimo attore di Ingmar Berman per dirvi la dimensione internazionale e il fascino del caso comunque Nicole vai tranquilla non regalava sapone a nessuno stai tranquilla non c'era no allora questo caso anche se la leggenda metropolitana dicevano che faceva col sangue con la margherina la farina lo zucchero i dolcetti che regalava quelli di Correggio anche qua non ci sono riscontri ok di questa di questa infatti questo è un caso che suscita un po' come Jack lo squartatore che tu puoi dire tutto è il contrario di tutto sono quei casi che affascinano proprio perché ecco anche questo discorso che facesse i dolci con il sangue gran parte del suo memoriale gli esperti contemporanei sono concordi nel ritenere che fosse una manipolazione un bisogno di soddisfare il suo ego anche perché lei venne giudicata semi inferma di mente all'epoca ma con gli strumenti attuali diciamo un esame psichiatrico attuale diagnosticherebbe nella cianciulli disturbo istrionico di personalità combinato al disturbo narcisistico non abbiamo niente anche qui la capacità di intendere di volere è assolutamente evidente nella pianificazione dei crimini perché lei prima di uccidere queste donne compra asce martelli gli fa scrivere le cartoline gli fa scrivere le cartoline che poi verranno spedite dai suoi figli da pari e parti d'Italia esatto per far credere che queste donne se ne sono andate volontariamente ora è un po' difficile ipotizzare che tu queste le convinci dicendogli non ti preoccupare adesso io ti aiuto ti organizzo ti ho trovato il posto quella che la cantante l'aveva mandata a Firenze dicendo vedrai che lì adesso ti assumono andrai a cantare quant'altro quell'altra le aveva combinato un matrimonio ovviamente non era nulla di vero ma le convinceva perché era talmente abili le convinceva addirittura a scrivere di loro pugno una serie di cartoline per far credere che effettivamente fossero in giro per l'Italia o per il mondo a vivere finalmente la vita tanto sognata quindi cioè insomma c'era una parte anche di preparazione e poi nella successiva fase quella in cui naturalmente di queste donne si perdevano le tracce e poteva diventare un problema quindi lei già si prefigurava quella fase se l'era organizzata peraltro anche approfittando dal puntissimo economico dei beni che avevano queste donne e non solo a differenza di Verzeni che aveva scarse capacità verbali Leonardo Gianciulli nonostante il basso grado di istruzione era molto abile verbalmente tant'è vero che queste tre donne hanno creduto senza nessuna prova a tutto quello che veniva raccontato dalla Gianciulli che a una ha detto appunto che c'era un uomo uno scapolo benestante interessato a lei le altre ha fatto credere appunto che ci fosse possibilità di lavoro e probabilmente sarebbe andata avanti e l'avrebbe fatta franca se anche qui non ci fosse stato un fattore che ha fatto partire le indagini cioè un'amica della cognata di Virginia Cacioppo la terza vittima che ha allertato la polizia perché le prime due vittime la sparizione delle prime due vittime non aveva suscitato le indagini e le indagini sono state ritardate proprio dalle lettere spedite da Giuseppe col timbro di Piacenza perché la polizia non pensava che ci fosse appunto un uomo davvero cioè pensava che fossero effettivamente ancora in vita fondamentalmente cioè ci ha voluto parecchio tempo per arrivare a capire che effettivamente invece c'era di mezzo lei e che queste donne purtroppo avevano fatto una fine tremenda non venne mai trovato nulla se non qualche piccolo resto credo qualche dente o qualche porzione la dentiera la dentiera di una vittima e poi macchie di sangue eh su vari indumenti che si stabilì che era di gruppo A del del gruppo della Cacioppo e quando venne arrestata la Cianciulli anche qui ebbe un atteggiamento molto lucido come quello di molti serial killer contemporanei per cui lei all'inizio confessò solo l'ultimo omicidio quello su cui c'erano le prove più evidenti gli altri due li negò ferocemente e li confessò a rate soltanto quando gli inquirenti le mostrarono le indagini andarono avanti e le mostrarono delle prove evidenti quindi un atteggiamento molto lucido anche di sfida verso la polizia ecco perché si tratta anche nel caso da Cianciulli di un caso estremamente moderno sia come modalità esecutive che per una donna sono abbastanza tipiche ma anche di comportamento insomma un po' distrionico anche con i poliziotti certo ma una cosa interessante lei perché quando venne incriminata venne incriminata in concorso con lei l'amatissimo figlio Giuseppe il suo unico problema era quello di far credere che e da lì lei divenne un po' più disponibile a confessare pur di spostare l'attenzione esclusivamente su di lei e non su Giuseppe che poi infatti alla fine venne assolto da ogni accusa e lei in leggenda narra poi bisogna vedere perché nei risoconti questo passaggio non c'è quindi non ho idea se poi sia realistico faccia anche questo parte un po' della mitologia che si è creata intorno a questa donna addirittura che lei chiese così ripeto ho letto da qualche parte chiese che le venisse perché non le credevano come è possibile che lei possa aver depezato questi corpi da sola non le credevano ok la corte non le credeva allora lei disse portatemi un cadavere e vi faccio vedere che io in pochissimi minuti dodici se non sbaglio sono in grado di fare esattamente tutto quello che mi state attribuendo da sola senza bisogno di aiuto di mio figlio e ovviamente non le portarono il cadavere per fare l'esperimento giudiziario però lei mi mando su se stessa le azioni del depezamento fece comunque intendere di essere davvero in grado di svolgere quel tipo di attività tant'è vero che alla fine le credettero nel senso che Giuseppe è stato assolto alcuni resoconti anche qui si va nella mitologia raccontano una versione leggermente differente che lei si fece accompagnare in obitorio e fece l'esperimento su un cadavere di fronte al medico legale però siamo nella mitologia in realtà ho letto lì credo da uno dei suoi conti che è ritenuto un po' più affidabili che non glielo più consentirono questo esperimento allora lei lo fece capire che si è in grado di sezionare nei punti giusti e c'erano dei medici che dissero che effettivamente quello che lei aveva indicato era la procedura in realtà la figura del figlio è rimasta controversa perché è vero che è stato assolto ma non è stato assolto con formula piena ma per insufficienza di prove per cui diciamo si fa fatica a credere che una donna che era alta poco più di un metro e cinquanta e pesava una cinquantina di chili fosse riuscita a fare tutto da solo tenendo presente che lei aveva fatto mettere anche un lucchetto al solaio e alcune parti dei cadaveri rimasero chiusi nel solaio siccome anche qui come nel caso di Vincenzo Verzeni parliamo di una donna e del marito e anche delle domestiche che venivano tutte da ambienti contadini diciamo che erano in grado di riconoscere anche l'odore di decomposizione però lei comunque spiegò lei per ogni contestazione dei giudici riusciva a dare delle spiegazioni credibili perché disse che era inverno e che quindi diciamo la decomposizione era stata rallentata per cui diciamo che da questo punto di vista è un caso controverso anche perché lei nelle prime confessioni aveva messo in ballo la complicità di un prete di alcuni amici non ricordo non ricordo come si chiamava sinceramente però c'era quello che poi di fatto un po' era stato l'elemento che aveva scardinato un po' tutta la storia perché questo qui aveva incassato un buono del tesoro di una delle vittime si chiamava Sirabelli non mi veniva il cognome ed era collegato con lei quindi all'inizio ipotizzarono che fosse lui in qualche modo il suo complice su questo tipo sì sì no ma perché lei lo coinvolse disse proprio perché lei infatti lei iniziò a accedere come dicevi tu quando vide il figlio esatto quando hanno cominciato a dire ma secondo noi è tuo figlio Giuseppe che ti ha aiutato in questa attività anche perché il famoso Giuseppe venne visto con un sacco diciamo che poteva portare all'interno la testa di una delle vittime quella più corpulenta che non stava nel pentolone che lei utilizzava per fare la bollitura con la soda caustica e più di un testimone vide lui uscire con questo sacco conteneva un oggetto tondeggiante abbastanza voluminoso e col senno di poi molti ipotizzarono che quella fosse la testa della famosa vittima che lei non riuscì a bollire completamente perché non ci stava all'interno del pentolone quindi insomma che Giuseppe potesse essere coinvolto è altamente probabile lei infatti quando venne condannata a 30 anni ritenuta semi inferma e Giuseppe venne assolto festeggiò come se fosse stata assolta pure lei sì quando le contestarono i giudici ma come è possibile sicuramente questi omicidi avevano causato schizzi di sangue dappertutto anche lì lei ebbe la risposta pronta perché disse che i familiari sapevano che lei soffriva di perdite epistassi perdite nasali per cui praticamente spesso andava in giro con i vestiti sporchi di sangue per queste perdite e quindi anche lì diede una scusa credibile quindi qui di infermità mentale ce n'è molto poca cioè stiamo parlando di una donna comunque che ogni contestazione aveva una risposta assolutamente tra l'altro lei venne esaminata da un altro molto noto all'epoca esperta il professor Saporito che la esaminò e la ritenne comunque semi-inferma di mente cioè riconobbe una componente di semi-infermità in relazione proprio a questo suo pensiero magico a questa sua componente esoterica molto forte a questo suo memoriale che venne definito farmeticante in più punti e che comunque le valse un pronunciamento di semi-infermità e quindi uno sconto di pena perché di fatto lei rischiava la fucilazione all'epoca ed è morta in manicomio di Ictus nel 1970 ecco questo per dare il dato diciamo cronologico è anche a distanza tutto sommato non così lontano nel tempo insomma ed è diciamo ancora oggi dal punto di vista dei serial killer italiani più noti al mondo forse pari merito forse levemente inferiore ma giusto giusto di qualche di qualche lineetta rispetto al mosto di Firenze cioè ancora oggi è una figura che ha ispirato tantissime vicende su cui ancora oggi comunque c'è da dire insomma la sua personalità era certamente l'aspetto più interessante di questa storia indubbiamente entrambe le vicende che vi abbiamo raccontato questa sera sono fortemente caratterizzate da infanzie difficili infanzie in cui l'aspetto affettivo certamente non è stato adeguato non è stato sufficiente e dove effettivamente questa carenza iniziale poi si è trascinata è evoluta in maniera malevola fino a alimentare attività davvero terribili lei uccideva le vittime abbastanza rapidamente con un colpo contundente al capo dopodiché le depezava e insomma procedeva con l'abbollitura con soda caustica quindi procedendo a diciamo alla saponificazione sotto questo aspetto insomma giustamente Sara ci dice ma è il cattivo odore dell'abbollitura e evidentemente non aveva mai destato particolari particolari questo fece appunto insospettire i giudici sul fatto che facesse tutto da sola però ecco alla fine non c'erano prove sufficienti per incriminare altri e quindi poi alla fine venne incriminata soltanto lei sì fondamentalmente l'unica che poi è stata condannata che ha scontato insomma il resto della sua vita l'ha passata in carcere peraltro anche lì l'aneidottistica che si sviluppa su questa vicenda dice che anche in carcere lei e anche nel manicomio si dava molto da fare insomma questa sua condizione di massaia l'aveva abbastanza caratterizzata e quindi cucinava un po' per tutti però nessuno voleva mangiare i dolci non perché ci fosse il sangue ma temeva che avesse magari inserito qualche strana sostanza sua e che magari potesse rintossicarsi o addirittura diventare i suoi schiavi fondamentalmente quindi nessuno diciamo mangiava quello che lei cucinava con suo grande dispiacere perché invece lei era molto portata per prendersi cura diciamo degli altri per cucinare fondamentalmente quindi ahinoi anche questo aspetto della sua vita è stato è stato frustrato dalla dai insomma dai sospetti dalle dalle chiacchiere insomma che giravano intorno a lei anche se di fatto prove oggettive che davvero utilizzasse il sangue delle vittime per produrre pasticcini non è stato oggetto di grandi chiacchiere ma non ha mai trovato riscontro non ha mai trovato riscontro quello che si sa è che lei faceva i dolci con il sangue dei maiali il famoso sanguinaggio all'epoca era una procedura che non era disutilizzata quindi lei comunque nel memoriale scrive che faceva che aveva pratica dell'uso del sangue quindi ma sembra proprio un bisogno anche proprio di di dare un'immagine di sé grandiosa megalomane e a questo punto se devo essere la cattiva voglio essere la più cattiva di tutti e c'è riuscita però paradossalmente perché ancora oggi stiamo parlando di lei è una storia che comunque è una storia interessante probabilmente si continuerà a parlare di lei si ne die insomma perché di fatto nella storia della criminologia lei la sua fetta di spazio se l'è ampiamente meritata insomma continuerà ad avercela strada facendo sicuramente per cui altre prime due storie direi molto appassionanti e indubbiamente viaggio nelle menti più estreme che si sono mai affacciate su questo pianeta primo di una lunga serie di viaggi all'interno della mente di questo tipo di soggetti ora decideremo nei prossimi giorni quale sarà il prossimo caso che tratteremo ma cercheremo di trattare veramente quelli più interessanti anche quelli naturalmente più controversi anche quelli che hanno maggiormente ancora oggi un grande appeal su un grande pubblico la fonte di tutte le nostre informazioni è naturalmente il testo di Ruben De Luca serial killer quindi se vorrete avere maggiori anche spunti per farci domande è sicuramente un libro che vi consiglio vivamente di acquistare prossimo appuntamento se Ruben è disponibile giovedì prossimo va benissimo ok quindi ci vediamo giovedì prossimo esattamente come stasera facciamo più o meno puntate di un'oretta insomma un'oretta e dieci un'oretta e un quarto in modo tale che sono tempistiche accettabili e gradevoli per tutti e ogni volta approfondiremo due casi che per certi hanno degli elementi di comunanza che ci consentono chiaramente di fare poi un discorso più ampio che li riguarda entrambi va bene nelle prossime puntate vi anticipo già che ce ne sarà una dedicata al mostro di Firenze e al mostro di Roma che verranno trattati nella medesima puntata perché sono due storie che davvero hanno degli aspetti estremamente analoghi sotto certi profili e che è interessante anche sotto profilo della mente dei soggetti che hanno agito affrontarli in maniera congiunta quindi grazie a tutti grazie a Ruben naturalmente per la sua disponibilità ragazzi Newton Compton mi raccomando acquistatelo numerosi e ci vediamo giovedì prossimo ciao un saluto a tutti buona serata grazie grazie a tutti